Scusatemi l'outfit però sono tornato da Roma con un grosso grossissimo raffreddore per fortuna non è covid ho fatto un tampone e sono abbastanza tranquillo di questa cosa però ho bisogno di qualcosa che mi tenga al caldo e allora come va? Ciao ragazzi bentornati sul canale finale di youtuber league c'era commentarla è appena uscito praticamente il video sul canale di Fede Marconi io però vi ragioni non l'ho ancora visto perché sto registrando proprio il giorno dell'uscita del suo video sono curioso di vedere rivedere la finale tutti i momenti però voglio anche raccontarvi la mia finale di youtuber league per farvi capire un attimino quello che ho provato quello che mi è successo quello che è stata la mia serata e raccontarvi anche qualche retroscena simpatico e divertente due premesse la prima ovviamente che se non avete ancora visto il video di Federico Marconi non andate oltre perché ci saranno degli spoiler e quindi ovviamente per raccontarvi la mia finale devo dirvi come è andata mannaggia voi quelli che continuano a scrivermi eh ma stai spoilerando quella io non ho mai spoilerato niente e infatti poi gli chiedevo allora com'è finita la finale facciamo congetture strane e particolari dicevano eh da questo post secondo me allora secondo te non è uno spoiler uno spoiler è quando ti dico è andata così è finita così quindi mi ha sempre fatto un po' ridere questa cosa la seconda è che vi chiedo un mi piace di supporto a questo video perché se vedrò interesse all'interno di questo contenuto poi magari già domani vi porterò il pagellone dell'intera andata di youtuber league quindi andrò a valutare a dare una valutazione a tutti i miei compagni di squadra compreso me per farvi capire un attimino eh quello che è stato il percorso che che ci ha portato a giocare a una finale quindi da questo istante in poi ragazzi io farò spoiler se siete ancora qui mi dispiace sono affaracci vostri e infatti poi eh tra un paio di giorni magari modificherò anche la miniatura eh di questo stesso video per cercare di di darle un'impronta leggermente diversa in realtà sapete già che ho giocato utilizzando xid che è il parastinque intelligente di soccerment che va a monitorare tutti i dati delle prestazioni beh io mi sono infortunato nel riscaldamento mi sono strappato poi vi racconterò un attimo e quindi questa è la mia player card e sono i pochi dati che che ha raccolto purtroppo xid però se siete interessati all'acquisto vi lascio il link qui sotto in descrizione e dal 23 novembre torneranno disponibili e ci saranno anche delle buonissime offerte per il black friday non perdete xid siamo noi siamo noi i campioni della youtuber league siamo noi la coppa ragazzi ambita richiesta la volevamo tutti non volevo assolutamente guardarla ho iniziato a guardarla per la prima volta quando la sagna l'ha consegnata al termine della partita ma questo è il finale della finale prima di tutto bisogna raccontarvi un po' quello che è accaduto in precedenza comunque la tengo qui perché sì perché ormai farà parte no dell'arredamento dello studio la metteremo magari lì dietro dove c'è la luce così la terremo sempre in prima vista io purtroppo questa finale non l'ho giocata come potete aver visto anche dalla mega player card xid per un motivo purtroppo mi sono fatto male nel riscaldamento ed è stato veramente un peccato perché dalla partita col Milan fino ad arrivare appunto alla finale con la Lazio mi ero allenato veramente un sacco perché volevo assolutamente portare a casa questa coppa perché con la mia squadra di calcio le cose non stavano andando bene perché volevo prendermi anche una sorta di rivincita su me stesso dato che io mi sono stato a giocare a calcio tardissimo avevo 16 anni la prima volta che ho giocato a calcio in vita mia non ho mai fatto le giovanili e quindi a livello tecnico sono scarso se non scarsissimo però dai 16 anni fino ad oggi che ne ho 30 ci sono stati 14 anni di mezzo in cui è stato il mio sport e ho dato veramente tutto se non forse anche qualcosina di più per cercare di capirci almeno qualcosa io gioco a livello amatoriale gioco negli amatori il massimo di categoria che ho fatto è stata la terza in cui ho fatto anche tanta panchina quindi non mi ritengo assolutamente un fenomeno però questo sport lo amo lo adoro in tutte le sue sfaccettature e in queste due tre settimane forse anche un mesetto dalla partita con il Milan fino alla finale tra partite della mia squadra dove sono stato l'unico a segnare tra l'altro perché stiamo dando un malissimo e quindi non riusciamo praticamente a fare gol e appunto gli allenamenti extra che facevo andavo al campetto per cercare di migliorare un po' la tecnica mi sono allenato tantissimo sui rigori perché avevo sbagliato due rigori su due nelle prime due gare del girone con Milan e Inter e non volevo che ricapitasse ancora una roba del genere quindi stavo magari due tre ore quando non avevo allenamento quando non avevo partita ed è capitato un giorno addirittura anche il giorno della partita prima della partita mi sono messo ad allenarmi con i cinesini con dei tiri in porta per cercare di migliorare un attimino quel poco migliorabile e credo che si sia visto anche abbastanza perché dalla partita con il Milan a quella con la Lazio ho perso qualcosa come due tre chili semplicemente facendo cardio alimentazione rimasta quella io non mangio particolarmente tanto sono quelle due tre volte a settimana dove magari mangio la pizza il sushi avevo le birre però insomma sono cose che fanno parte che mi rendono felice e sicuramente non me le tolgo però questo allenamento extra mi ha sicuramente asciugato un pochino qualcuno l'ha anche notato nei video e quindi veramente mi presentavo carico a pallettoni a livello di fiato stavo benissimo e infatti la formazione iniziale mi vedeva sulla fascia per cercare di servire Pipeg e Campolunghi che sono due migliori giocatori probabilmente che avevamo a disposizione per una finale dove perdavamo Fratino e Nicolas tra tutti che erano stati dei trascinatori ma anche Michele e Nicola sempre dei footwork che non sono riusciti ad essere a disposizione infatti questa finale come dicevamo anche nel video ragazzi è anche loro e faremo il pagellone comprendendo anche loro perché tutti quelli che hanno contribuito a portare a casa questa coppa sono stati indispensabili secondo me nel loro piccolo nel loro grande per cercare di creare intanto un gruppo perché il gruppo che si è creato è clamoroso poi ne parleremo magari nel video del pagellone ma soprattutto per quello che è andato sul campo e quindi io arrivo tutto bello carico consapevole di essere anche in un buon momento fisico forse il miglior momento fisico dal post covid che stavo riuscendo a vivere con la consapevolezza che sarei stato semplicemente un gregario al servizio di quelli che la partita te la potevano risolvere tanto tantissimo riscaldamento proprio perché c'era un freddo della madonna e il primo tiro in porta che ho fatto ho sentito il retto femorale tirare e un toc sordo che significa probabilmente strappo lunedì ho un'ecografia e poi vedremo se sarà effettivamente così ma mi sono già strappato nel retro della coscia in tutte e due conosco la sensazione e ho anche già un piccolo versamento dal giorno dopo ed ero consapevole allora c'era Linda la mia fidanzata sono corso da lei e le ho sussurrato in orecchio guarda che mi sono fatto male e poi mentre entravamo in campo sono andato da Lello e anche lì l'ho guardato e gli ho detto Lello io ho male non so quanto duro e lui mi ha detto ma fai un po' di stretching gli ho detto non credo che sia un problema di stretching e infatti quando entriamo in campo e ci sono le foto di squadra io ho una faccia arrabbiatissima ero incazzato come una biscia perché sapevo che non sarei riuscito a dare il mio 100% ma non pensavo di essere addirittura costretto al cambio e infatti che cosa accade che alla prima volta che mi viene servito un pallone da Dani dalla sinistra verso destra sono costretto a provare uno scatto e sento che la gamba rimane dietro non mi segue non sono libero di correre e allora dall'altra parte del campo inizio a urrare Kino 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 perché in quel momento era rimasto giù aveva chiesto di non giocare il primo tempo e quindi c'eravano disposti in un altro modo costretti al cambio dopo un minuto e 50 secondi circa questo è il tempo in cui ho giocato durante la youtuber league della finale senza mai toccare la palla perché purtroppo nel riscaldamento il mio muscolo ha deciso di lasciare lì di smettere di funzionare siamo proprio la Juventus in tutto e per tutto ma attenzione perché non finisce qua perché poi andiamo in vantaggio finiamo il primo tempo in vantaggio iniziamo a chiacchierare c'è questo confronto a fine primo tempo perché comunque alcune cose non stavano funzionando alcuni giocatori non erano ben consapevoli di quelli che erano i loro compiti quindi abbiamo cercato di fare un attimo ambiente locale poi in maniera un po' energica ma se stava giocando una finale sapete bene com'è dentro il campo da calcio e quindi è logico anche che magari lì per lì siano volate magari parole un po' forti o sembravamo magari un po' agitati però tanti hanno scritto eh siete nemontati ci credete troppo ma ragazzi quando una cosa ti importa speri una cosa quando si cerca di vincere il campionato di terza categoria non ci si impegna ma certo che ci si impegna sia dei montati perché ci si prova ma certo che no io credo anche che sia utilissimo cercare di voler vincere anche le partitelle d'allenamento per cercare di migliorarsi sempre questa è una mia filosofia nel mio piccolo senza aver mai giocato a calcio appunto in età di bassissime quindi non avendo avuto una scuola a calcio a disposizione per migliorare la tecnica sono stato autodidatta e quindi ho sempre cercato di tirar fuori da ogni singolo calcio un qualcosina in più poi io sono un giocatore che si esalta nella lotta e quindi capite bene che per esaltarsi nella lotta devi stare bene fisicamente perché devi proprio andare in guerra e se la gamba non ti segue è impossibile è impossibile applicare il mio stile di gioco proprio letteralmente impossibile e nel secondo tempo iniziamo ci ritroviamo nella condizione in cui mancano sette minuti alla fine del primo tempo alla fine della partita siamo in vantaggio per 4 a 2 e vedo il Pipega cadere per terra come una pera cotta dal niente subito uno urla gli han dato un calcio da dietro io invece ero consapevole sapevo che non era così perché appena è arrivato Pippo mi guarda e mi fa ho un piede rotto io lo guardo e gli dico Pippo ma cosa stai dicendo un piede rotto se mi sono micro fratturato il piede l'altro giorno facendo un video sul campetto ma non mi importa ho fatto in modo di esserci perché volevo vincere questa finale e quando l'ho visto cadere così ho capito subito cosa stava accadendo e quindi costretto a uscire Pippo mancano sette minuti perché chiedo all'arbitro quanto manca mi dice sette minuti e sono costretto a rientrare in campo ma io non camminavo non mi muovevo e allora guardo Luca Campolunghi gli dico Luca perdonami ti devo togliere da lì davanti perché io sicuramente non posso correre non sono in grado di scattare faccio fatica a camminare mi metto lì tiratemi i palloni sul mancino perché poi mi sono fatto male sul destro che è il mio piede e cerco di appoggiarvi di prendere il fallo di tenere sulla squadra di tenere lontana la palla dalla nostra area di rigore il massimo che posso fare è questo qua solo che anche Luca era molto stanco e infatti il primo minuto in cui sono in campo con Luca che scala un attimo a centrocampo noi eravamo anche un pochino morti la last forse aveva approfittato per recuperare psicologicamente di questa cosa ci fanno subito gol e Pippo in panchina col piede rotto si incassa perché giustamente dice finché sono stato su io tenevo a galla la baracca scendo prendiamo gol e c'hai ragione Pippo c'hai ragione però capisci bene che se io non l'ho giocata quella partita è perché proprio non riuscivo a camminare Luca a centrocampo era stanchissimo sicuramente non era il suo ruolo quindi poi credo che la testa abbia fatto tanto lì per lì perché forse ci siamo proprio guardati e abbiamo detto ok non sappiamo se la portiamo a casa allora dico a Luca di tornare davanti decido di mettermi davanti alla difesa a dar fastidio al massimo a tirare sul pallone solo che a un certo punto vedo scattare un ragazzo della Lazio non mi ricordo nemmeno chi cerco di di corrergli dietro come potevo ma sento ancora la gamba che fa toc 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 è il male che dall'alto inizia a scendere perché probabilmente si erano strappate altre fibre muscolari e ho fatto un verso ragazzi un male incredibile perché proprio non so a quanti di voi sia mai capitato uno strappo muscolare ma fa male malissimo solo che eravamo 4-3 non si poteva lasciarli e dopo pochi istanti prendiamo il 4-4 e lì penso cazzo moriamo 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 poi c'è un palo di sespo incredibile e poi addirittura c'è un'occasione perché Luca porta sulla palla io in tutto questo non avevo ancora mai toccato il pallone ma non ero in grado di farlo porta su una palla nessuno accompagna l'azione e allora dico vabbè e allora con Luca spalla la porta e con tutti i difensori della Lazio attirati su di lui gli dico Luca sul mancino Luca sul mancino Luca sul mancino lui mi guarda mi serve me la dà sul destro ho quel secondo di esitazione e dico no non posso tirare mi sono strappato non sono in grado di camminare di alzare la gamba non posso farlo e poi penso sì ma siamo 4-4 manca un minuto e allora lascio partire il tiro che viene rimpallato da un difensore della Lazio che era uscito dal blocco e la mia gamba urla letteralmente e mi rendo veramente conto di non essere in grado di poter far più niente in quella partita se non spingere gli avversari cercando di togliere un po' di equilibrio finisce la partita 4-4 e ora vi lascio la clip in cui decidiamo i rigoristi lo tiri uno di là Luca lo tiri di là lo tiri vai lo tiri allora io tiro l'altro no eh appunto vai io solitamente non mi tiro indietro nel battere i rigori e infatti come avete visto anche qua ero pronto a farlo ma non volevo farlo perché avevo una gamba distrutta e sapevo di non poterlo tirare ma lì forse ci siamo un po' tutti cagati adosso perché con l'Inter mi ricordo quando siamo andati i rigori tutti io 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 qua due o tre davvero decisi nel voler battere i rigori gli altri si sentiva la partita ragazzi si sentiva la partita e iniziamo li battiamo purtroppo Lucone sbaglia che secondo me non si sente a suo agio dagli undici metri Luca perché anche col Milan quando c'era stato il rigore che si era procurato lui dopo che aveva fatto mille gol durante la partita si è allontanato subito non ha neanche provato a batterlo e arriva al punto in cui dobbiamo andare io Chino Chino non se la sentiva e diceva vai te vai te vai te dicevo Chino sicuro sì sì vai te io però ero lì che non lo volevo battere perché non riuscivo ad alzare la gamba finché il Pipega giustamente dice Chino no vai te Chino fa gol un incastro astrale incredibile ci porta a battere l'ultimo rigore se facciamo gol vinciamo e rimangono come i rigoristi Fene che è il portier e non lo voleva tirare perché non se la sentiva Pipega con un piede rotto e io con uno strappo e allora prendo sto pallone mi avvicino lo metto sulla lunetta Lello mi dice che c'è una conca e quindi di metterlo un pelo più avanti lo tolgo dalla buca e penso lo batto col sinistro poi ragiono su tutto l'allenamento che avevo fatto fino a quel giorno lì sul calciare regori e non avevo mai se non poco perché veramente poco provato a calciare con il sinistro e quindi dico no vado col destro nonostante tutto ma non posso dargli né potenza né direzione non posso provare ad alzarlo e quindi scelgo un angolo faccio una sorta di passaggio e provo a spiazzare il portiere prendo l'aria in corsa decido di batterlo alla mia destra purtroppo dici system si butta in quella posizione lì esattamente in quella posizione lì la prende la palla inizia a capitolare io lì per lì pensavo che rientrasse comunque con l'effetto cosa che fa ma fuori dal palo e non vinciamo la classifica non vinciamo il trofeo col mio rigore fortunatamente poi Fene si esalta durante i rigori ricominciamo il giro tocca di nuovo Luca Campolunghi che non voleva tirare il rigore e per fortuna invece questa volta segna e ci porta a casa questo questo splendido trofeo e siamo i campioni d'andata della finale di youtuber league ho sbagliato tre rigori su tre tre rigori su tre in tre partite incredibile però primo con l'inter sapete io li tiro di punta sono sempre stato abituato a tirare di punta infatti nel video delle guerre si sente il pippega che mi urla non di punta non sarei stato in grado di farlo non ci sarei riuscito non riuscivo a tirare sulla gamba il secondo col Milan invece l'ho tirato veramente male perché l'ho tirato di pia me l'ho già spiegato e lì veramente mi sono detto no mai più in rigore del genere il terzo l'ho battuto al massimo delle mie capacità motorie in quel momento lì ma il giorno dopo sono stato veramente logorato da questa cosa perché sbagliare quel rigore lì e rimettere in difficoltà tutta la squadra io continuavo a dire ragazzi scusate scusate colpa mia ho sbagliato il rigore scusate colpa mia perché se poi perdi la finale per quella roba lì hai idea ce l'hai l'idea e il giorno dopo continuavo a rivedermi la scena di DC System che va esattamente nella posizione dove calcio il rigore mi ha veramente logorato ho capito di essere comunque stato protagonista tra virgolette della partita cioè di aver giocato anch'io di essere parte del gruppo dopo un paio di giorni perché quella cosa lì mi ha veramente distrutto oggi però la prendo come un po' più di filosofia nel senso tuttora non riesco a camminare quindi anche essere tornato in campo per provare di vendere il risultato la vedo come un po' di sana incoscienza e soprattutto sono contento per Luca Campolunghi perché è stato uno dei protagonisti di questa andata di YouTuber League e mi fa un sacco piacere che abbia risolto lui la partita col suo calcio rigore dopo aver sbagliato il primo rigore quindi questa cosa mi fa assolutamente piacere e in seconda battuta penso se ho sbagliato tre rigori su tre partite che tra l'altro io a 11 so che sembra incredibile ragazzi ma chiedete chi gioca con me io batti i rigori nella mia squadra non ho mai sbagliato un rigore questa cosa mi fa troppo ridere però va bene però tre rigori tirati tre rigori sbagliati tre vittorie se questo è il trucco per vincere anche la finale di ritorno sono disposto a sbagliare altri rigori ora la prendo sul ridere ma non posso farci nient'altro però vi giuro che questa cosa mi ha lavorato soprattutto perché mi ero veramente allenato un sacco per non ripetere una figuraccia del genere per quanto il rigore comunque sia stato battuto male a livello di coordinazione l'idea era quella di tenerla bassa e scegliere un angolo perché diversamente non potevo fare so che sto continuando a insistere su questa cosa qui ma capitemi vi sto raccontando la mia finale di youtuber league e non l'ho giocata e quello è stato forse uno degli unici momenti e infatti lì per lì mentre andavo sul dischetto pensavo hai capito il destino mi rompo nel riscaldamento non posso giocarla ma ho la possibilità di alzarla semplicemente facendo gol su rigore dove mi sono comunque anche preparato abbastanza in questi giorni però se non riesci ad alzare il pallone e il portiere indovina l'angolo c'è poco da fare e infatti il destino è stato beffardo e si conferma invece la tendenza negativa dagli undici metri cosa che dice anche Federico Marconi durante la premiazione e lì ci si può far poco ma la cosa più importante è che siamo tornati a casa con questo trofeo e nel momento in cui è necessario alzare la coppa ho deciso di condividere questa gioia con il Pippega perché aveva veramente fatto qualcosa di clamoroso giocando con un piede rotto aveva stretto i denti aveva calciato in rigore da infortunato e quindi mi sembrava assolutamente giusto far alzare anche a lui perché quella coppa non dico che sia tutta sua ma ci ha messo veramente qualcosa che in un campo da calcio non avevo mai visto ed era presente anche alla Summer Cup quest'estate quindi si era mangiato della merda insieme a noi mi sembrava un bel gesto di squadra contentissimo ma veramente contentissimo se penso alla mia storia personale con questa finale di YouTuber League però vi dico sono arrivato a Roma mi sono strappato ho sbagliato il rigore decisivo ho preso il raffreddore perché non riesco a parlare non riesco a respirare col naso infatti anche fare i video ragazzi è un disastro e nel ritorno in treno ho pure perso il tablet quindi se avete trovato un tablet tra Italo e Trenitalia fatemi sapere perché è mio sta andato disperso anche se ero convinto di averlo portato a casa magari me l'hanno rubato probabilmente me l'hanno rubato durante il cambio di un treno è l'unica cosa che mi viene in mente quindi lato mio è stata un'esperienza assolutamente negativa invece lato squadra è stata un'esperienza assolutamente positiva io qui ne approfitto dopo quasi 20 minuti di chiacchiera per ringraziare i ragazzi che hanno giocato con me la squadra i miei compagni perché questa coppa veramente l'hanno vinta loro io sono stato un semplice spettatore non pagante e basta e mi dispiace un sacco però proverò a rimettermi in sesto quanto prima secondo me un paio di mesetti di stop li ho e vediamo come va perché abbiamo vinto sì l'andata ma c'è ancora tutto ritorno a giocare e magari anche una finalissima da vincere perché non vogliamo fermarci qui questo è solo l'inizio e quindi primo trofeo stagionale per la Juventus primo trofeo per la Juventus dopo il ritorno di Allegri e finalmente oserei dire io finalmente dai ragazzi fatemi sapere un po' le vostre impressioni qui sotto nei commenti fatemi sapere se volete anche il pagellone finale d'andata della Youtuber League e per concludere il video come al solito sì sono troppo emotivo non ci posso fare niente sono una persona sensibile e infatti a fine partita io e il Pippega ci siamo letteralmente messi a piangere messi a piangere eh lo so è una cazzata eh lo so è un gioco eh lo so quello che volete però l'emozione è l'emozione e l'emozione non la puoi comandare ma allo stesso tempo credo che tutto questo sia stato bellissimo nonostante tutte le sfighe nonostante tutti i difetti a livello personale eh poi si guarda la squadra e la squadra ha vinto e la squadra ha fatto qualcosa di incredibile partivamo non da favoriti anzi perché le precedenti esperienze alla Summer Cup non avevano entusiasmato eppure guardate che cosa abbiamo fatto e quindi poi la squadra è una cosa è una cosa che cosa ha fatto che cosa ha fatto e poi